Nel 2015 in Toscana le immatricolazioni di autobus sono cresciute del 118,5% rispetto al 2014 e Arezzo è tra le province toscane in cui vi è stata la maggior crescita, più 556,2%. Se si prendono in considerazione le immatricolazioni di autobus con capienza fino a 30 posti, l'aumento registrato in Toscana è stato del 18,7%. Anche per le immatricolazioni di autobus con capienza compresa tra i 31 e 60 posti la crescita è stata netta, più 61,8%. Arezzo si colloca al secondo posto in Toscana per l'aumento delle immatricolazioni. I dati derivano da un'elaborazione dell'osservatorio sulla mobilità sostenibile di AIRPA, associazione italiana ricostruttori pneumatici, sulla base di dati ACI. Nel 2015 in Italia le immatricolazioni di autobus sono state 3.007 contro le 2.792 del 2014. La crescita è indubbiamente significativa e dimostra che nel nostro paese questo comparto sta superando le difficoltà degli anni passati. La crescita è dovuta certamente alla ripresa dell'intera economia che sta ripartendo dopo la grave crisi economica ma anche alla necessità di sostituire i mezzi più datati e ancora in circolazione.